il treno regionale 11 0 7 3 di trenitalia proveniente da belluno e diretto a padova delle ore 5 e 56 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a cornuda monte belluna fanzolo castelfranco veneto campo san piero il treno regionale 11 0 7 2 di trenitalia proveniente da padova e diretto a belluno delle ore 6 e 31 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a alano fenervaldo biadene cuero vas feltre busche lenti a email santa giustina cesio sedico bribano il treno regionale 11 10 9 di trenitalia proveniente da calalzo pieve di cadore e diretto a padova delle ore 8 e 32 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a cornuda monte belluna fanzolo castelfranco veneto campo san piero san giorgio delle pertiche campo d'arcego bigo darzere il treno regionale 11 104 di trenitalia proveniente da padova e diretto a calalzo pieve cadore cortina e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni in tutte le stazioni